Viaggiare e fotografare. Il miglior modo per capire il mondo e se stessi. Prima di partire cerco di programmare quanto più possibile. Ma sul campo anche la pianificazione più dettagliata spesso cede il passo all'improvvisazione. Eccomi a bordo di una piccola casa viaggiante, verso scenari naturali in cui terra, cielo e acqua si fondono e si abbracciano in un orizzonte infinito, nel delta del Po. Per fissare queste nebbie, queste foschie dense e materiche, una nuova compagna di viaggio, unica nel suo genere. GFX 100S Un cuore grande, generoso, un occhio svelto e acuto. La qualità d'immagine e la quantità di dettagli che sembrano non avere mai fine lasciano sbalorditi. Comunque la tridimensionalità e la profondità coriore di questa macchina sono impressionanti. È inebriante fotografare travel con il large format Fujifilm, così compatto e versatile. Ed è rassicurante poter passare da serie X a GFX e sentirsi immediatamente a casa. Nei pochi momenti di luce ideale concessi dal cielo, avere tra le mani una macchina così generosa negli alti ISO e con uno stabilizzatore interno tanto potente è stato fondamentale per portare a casa il mio racconto di viaggio. Poter scattare a mano libera e con tempi impensabili per un medio formato dà un senso di libertà infinita. Quella stessa libertà che poi si ritrova nella gamma dinamica, in luci ed ombre che si fondono e si allontanano senza mai spezzarsi. Con GFX100S ho potuto perdermi nella delicatezza di questi panorami finiti. Ma sono certo di portarli a casa con molto più di ciò che i miei occhi hanno potuto vedere. Grazie.